Preghiamo per la guarigione dell'anima e del corpo. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Signore, tu sai quando mi alzo e quando mi siedo. Penetri da lontano i miei pensieri. Tu sei grande, sei vicino. Tu sei vicino che stasera ascolti il grido del mio cuore. Signore, ascolti e vedi. Anche quando mormoro e i miei passi verso di te. Tutta la mia gioia, i miei desideri, ma anche i miei dolori. O Redentore, grazie perché ancora oggi prendi su di te il fardello delle mie inquietudini. In tua presenza, non ho paura della mia impotenza. Per questo ho fiducia in te, Gesù. Signore, come un bambino tra le braccia di sua madre. Un bambino che riposa. Io ti offro il mio cuore. Purificalo. Ricolmalo. Ricolmalo. Guariscilo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Ti prego, sii onnipotente nella mia vita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Nienta in me tutto ciò che la mia volontà ha creato come barriera. Sii glorificato in me con la tua potenza. Vieni a vincere tutti quei freni che vogliono allontanarmi da te per la tua potenza. Vinci in me. Supera, vinci tutti quei piani che ho fatto senza di te. I miei egoismi, i miei desideri di potenza. E con la tua potenza guarisci tutte le mie incapacità fisiche. che non mi portino a essere annientato, ma che siano il motivo di essere ancora più vicino alla tua croce. Eccomi, Signore. Glorificati nella mia vita. Grazie a tutti. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Ti prego, entra nelle mie debolezze, che le mie debolezze non siano sorgente di peccato, ma spazio che tu occupi, che tu guarisci, spazio nel quale tu desideri glorificarti. Guarisci tutte le mie relazioni, in modo particolare, relazioni in famiglia, in comunità, nel vicinato. Che il mio prossimo non sia percepito come qualcuno che è contro di noi, ma qualcuno nel quale io possa vederti e riconoscerti. E ti prego, infine, Signore, per tutte le croci che portiamo nella nostra vita, tu hai dato un nuovo significato alla sofferenza. La croce non è più il luogo nel quale il dolore mostra la sua forza, è invece il luogo nel quale c'è la grazia del riscatto. Per questo io ti prego, Signore, aiutaci ad accettare le nostre croci, che anche noi attraverso la croce possiamo vedere la luce, la luce del mattino di Pasqua della Resurrezione. Che su voi tutti qui presenti, sulle vostre famiglie, su tutti coloro per i quali avete pregato stasera, scenda la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie a tutti.